Siamo in grido, altissimo e feroce, di tutti quei carpi che più non hanno voce. Non una, non una di meno, insieme siamo partite, insieme torneremo. Sabato staremo a Roma con la manifestazione nazionale e oggi siamo qui a Padova per Giulia, ma anche per le vittime di transfobia e per tutti i mille motivi, perché il patriarcato è ovunque, ci stanno uccidendo, ci uccidono ogni giorno e noi siamo stufe di dover vivere con la paura. L'occhio, l'oretto, non è la parola di tutti quei carpi che più non hanno voce. Fortunatamente vedo che non ci sono solo donne qui, perché abbiamo anche tanto bisogno di una rappresentazione anche dell'uomo che sta con la donna. Ecco, di sicuro da sola non potremo mai farcela. Più arrabbiate, amareggiate. Sempre più arrabbiate e sempre più amareggiate. E' un grido alla società, appunto, perché non possiamo più tollerare questo patriarcato. Lei è studentessa a Padova? Sì. Che cosa frequente? Chimica. Continuate a ripetere negli slogan che siete incazzate. Sì, appunto, non ne possiamo più, sono anni e anni. Il nostro corpo non si tocca, lo difenderemo con la loscia. E' fattivo, non è malato, è figlio sano, se il patrio è stato. Ho sentito che siamo sulle 15.000 persone e quindi sono soddisfatta. E gli slogan spesso erano, siamo incazzate. Sì, molto, lo sappiamo. Perché? Perché non è giusto, basta. Sorella, sorella, sorella io ti credo! Sorella, sorella, sorella io ti credo!